L'inflazione non è ancora domata ma la sua salita sta rallentando. L'economista chiavarese Stefano Caselli vede il bicchiere mezzo pieno in virtù di due fattori. L'aumento dei tassi di interesse che sta dando i suoi frutti e la stabilizzazione dei prezzi dell'energia il cui calo in bolletta si vedrà nei prossimi mesi, anche se la spesa in generale è più costosa che mai. La salita però sta chiaramente rallentando, però io mi auguro che superata l'estate atterreremo su uno scenario, devo dire, di stabilità. Quindi non voglio dire che lo scenario è rosio, però incominciamo a dire che forse il peggio incomincia a essere passato. La BCE ha aumentato i tassi di interesse perché nonostante tutto, spiega Caselli, è l'unico strumento contro l'inflazione. Compito della Banca Centrale sarà stabilire un equilibrio per evitare il rischio recessione. Costa di più finanziarsi, costa di più per le imprese e se le imprese spendono di più per finanziarsi, ovviamente devono alla loro volta alzare i prezzi oppure fanno fatica a ripagare i loro debiti e questo innesca il rischio di recessione che citavo, per le famiglie che hanno acceso soprattutto un mutuo o dovranno accendere un mutuo, significa avere delle rate più pesanti. Il tema dei mutui più alti preoccupa le famiglie, soprattutto quelle che sostengono un mutuo a tasso variabile. L'economista si rivolge proprio a loro, paradossalmente è meglio stringere i denti piuttosto che passare ad un tasso fisso. Spegnere il mutuo e accenderne un altro a tasso fisso, il rischio è pagare ancora di più e soprattutto non beneficiare di una discesa dei tassi che magari incomincerà a esserci l'anno prossimo. Se invece la famiglia riesce a resistere con la rata che oggi si paga, il mio consiglio è stringere i denti perché poi fra un anno o due, quando i tassi incominceranno a scendere, ovviamente si beneficerà di avere una rata più bassa.